Ciao, sono la dottoressa Maria Guerriero e oggi voglio parlarti di pancia gonfia e alcuni cibi che possono esserti d'aiuto. Il primo è l'ananas, perché va a ridurre l'infiammazione e la ritenzione idrica, agendo proprio sul gonfiore sia del ventre che delle gambe. Gli asparagi, che sono oltretutto anche molto gustosi, sono davvero amici della tua linea, perché vanno ad agire sul tratto digestivo, favorendo proprio l'assorbimento di nutrienti e oltretutto hanno un effetto diuretico. I carciofi, che sono molto ricchi di fibre di acqua, sono un'ottima soluzione contro la pancia gonfia, oltretutto hanno un forte potere saziante, quindi aumenterai il senso di sazietà, di conseguenza riuscirai a mangiare meno. Il finocchio è il più grande nemico della pancia gonfia, lo puoi consumare sia cotto che crudo, sia come contorno che come spuntino, ed infine l'acqua, il miglior alleato contro la pancia gonfia, è davvero a portata di mano, ma non tutti lo sanno, ed è proprio l'acqua. Ti consiglio di bere tanta acqua, almeno 2 litri al giorno, evitando invece i succhi, tutte le bevande gassate e zuccherate. Se hai bisogno di qualche altro consiglio, commenta pure sotto questo video, ti risponderò appena possibile. Ciao e a presto!